E' il primo della lista nei tuoi sogni, vuol dire indipendenza alla tua età. L'aspetti da una vita ed oggi lo puoi realizzare, la tua patente a tutti mostrerai. La macchina è l'amica dei tuoi giorni, è il primo passo per la libertà. E ti accompagnerà crescendo nel viaggio della vita, riderai e piangerai con lei. Guida, vai per la tua strada, occhi aperti e sogna, è tempo di sorridere, di scegliere la tua via. E niente più ti ferma, tutto si colora, tu senza cedere. Guida e vai, guida e vai. Grazie. 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 Ciao ragazzi, ciao a tutti, buonasera, buonasera, buonasera a tutti. Eccoci qua collegati col nostro appuntamento ormai fisso del martedì sera alle ore 19 e del venerdì sera alle ore 19. Allora ho visto che siamo già in tanti, siamo già a circa 120. Ecco, mentre aspettiamo che si colleghino tutti gli altri ragazzi per non perdersi questa fantastica lezione, voglio sapere da voi se mi sentite bene e se mi vedete bene. Quindi avete a disposizione la chat sotto la diretta e quindi fatemi sapere attraverso un messaggino mi dite ok si sente e si vede bene in modo tale da poter fare una lezione importante e in modo tale che arrivi a tutti. quindi cerchiamo di fare in modo che tutti possano assistere a questa lezione. Adesso vi dirò alcune mosse da fare per poter fare in modo che tutti i vostri amici assistano a questa lezione. Allora se, ok perfetto, inizio a vedere qualche commento, quindi inizio a salutare qualcuno mentre aspettiamo tutti gli altri ragazzi. Quindi iniziamo con i saluti classici. Ecco, ciao Marie, ciao sono di Parona. Ecco, se mentre mi state guardando in questo video mi fate sapere anche da dove mi state scrivendo, così tanto per avere un'idea se ci stiamo sempre di più espandendo in queste nostre dirette del martedì e del venerdì. Allora, saluto, intanto continuo un po' con ciao Andres, ciao Elle, ciao Cica, buonasera, ciao da Cagliari. Vediamo se qualcuno mi dice anche se si sente e si vede bene, che è la cosa più importante. Giulia mi dice sentiamo e vediamo bene, quindi se questa è ti sento e ti vedo benissimo. Ilenia, ciao, buonasera, Valeria si sente e si vede, buonasera, buonasera, quindi ok tutto a posto. Allora, mentre aspettiamo altri ragazzi in modo tale da avere più persone collegate, fatemi sapere anche sempre nella chat se vi state preparando per il vostro esame, fra quanti giorni avete il vostro esame e come vanno i vostri quiz, quanti errori fate più o meno in media per vedere stasera di chiarire alcuni dubbi su un argomento molto importante che è quello della marcia per file parallele. Allora, ciao di Trento, ciao Ella, ciao Treviso, salve da Battipaglia, provincia di Salerno, quindi ci stiamo espandendo. Allora, intanto vado un po' giù con i commenti. Allora, per chi non mi conosce, mi presento. Io sono Daniel Moretto, sono insegnante di teoria della mia autoscuola Olimpia. Questa sera siamo in Liguria, siamo nella provincia di Savona e in particolare siamo ad Albenga, la mia autoscuola Olimpia di Albenga. Se qualcuno è della provincia di Savona, addirittura in Albenga, magari qualche mio allievo che mi sta seguendo, me lo faccia sapere sempre nella chat così lo possiamo salutare. Mi raccomando, è importante che me lo facciate sapere. Allora, vediamo un pochino. Alla fine del mese e non sto tanto bene. Flori, dai, vai tranquilla, c'è ancora un po' di tempo. Cerca di cominciare a fare più quiz possibili. Segui le nostre lezioni e vedrai che preparare il tuo esame di teoria sarà facilissimo. Ciao Davide che mi tagga anche, quindi ciao, buonasera. Ecco, se qualcuno a questo punto non riesce a vedere e non riesce a sentire bene, allora faccia una cosa. Esca dalla pagina e la riaggiorni, perché ogni tanto Facebook, ogni tanto si incastrano queste rotelle e fa dei pasticci. Allora, 186, siamo tantissimi questa sera. Allora, voglio spiegarti, per te che ti stai preparando per l'esame di teoria, una cosa molto importante. La mia autoscuola Olimpia, come ti dicevo, di Albenga, è un'autoscuola che fa parte della grandissima famiglia dell'autoscuola Guida e Vai, che siamo più di 500 sparsi ovunque. Allora, come consiglio personale che ti voglio dare questo, scarica l'applicazione di Guida e Vai, se non l'hai ancora fatto, fallo adesso. Scarica l'applicazione Guida e Vai, abilita le notifiche, ma soprattutto abilita il GPS. Questa funzione ti permette di collegarti con il tuo insegnante, come sono io, certificato da Guida e Vai, più vicino alla tua zona e potrai raccontargli e chiedergli un sacco di cose, ma questa me la tengo per la fine del video, così mi segui fino alla fine e alla fine ti spiego proprio due cose un po' più tecniche sull'applicazione, in modo tale che tu possa avere tutti i vantaggi che solo il quiz patente Guida e Vai ti può offrire. Allora, questa sera dobbiamo parlare di un argomento che in realtà è abbastanza facile, devi solamente concentrarsi su due o tre concetti che chiaramente ti vado a spiegare e l'argomento di stasera è la marcia per file parallele. Allora, prima di partire con questo argomento voglio vedere se siete abbastanza carichi, quindi se siete carichi, vedi che qui sotto, sotto alla mia diretta dove c'è scritto Guida e Vai hai una specie di pulsantiera con tante emoticons, allora se sei, se siete carichi per affrontare questo argomento e avete voglia di eliminare tutti i dubbi che avete proprio sulla marcia per file parallele, allora fai una cosa, vedi il pollicione, fai partire il pollicione, voglio vedere la chat che si riempie di pollicione, di tutti i pollicioni, voglio vedere proprio tutti i pollicioni che vanno verso l'alto, così mi fai capire che sei, hai proprio voglia di capire questo argomento e di andare fino in fondo e eliminare tutti i tuoi dubbi e vedrai che alla fine di questa lezione avrai qualcosa in più che sono sicuro ti servirà per le tue esercitazioni ma soprattutto per il tuo esame di teoria. Quindi vedo partire alcuni pollici, ecco, ecco li vedo partire, quindi ci siamo, siamo abbastanza carichi. Allora direi che possiamo cominciare, abbiamo aspettato i ritardatari e diciamo così, come dice il detto, chi va a Roma perde la poltrona, gli ultimi arrivati si guarderanno il video dall'inizio e perderanno il bello della diretta, ecco. Allora, altra cosa che mi stavo dimenticando di dire è importantissima, se conosci qualche tuo amico che deve fare l'esame di teoria, nella chat qui sotto fai una cosa, metti la chiocciolina, il simbolo della chiocciolina e il suo nome, così viene catapultato direttamente dentro il video e non si perderà questo, questo fantastico argomento. Allora, come ti dicevo stasera parliamo della marcia per file parallele, allora è un argomento ti dicevo abbastanza facile, devi innanzitutto immaginarti la scena, cosa vuol dire marcia per file parallele? Marcia per file parallele vuol dire questo, guarda, due veicoli, due file di veicoli che viaggiano parallelamente uno affianco all'altro, quindi se tu immagini questa cosa, questa prima cosa e te le immagini così nella mente, due file di veicoli che viaggiano una accanto all'altro, una cosa è subito chiara, la marcia per file parallele è consentita solamente se ci sono almeno due corsie per ogni senso di marcia, perché sicuramente ti stai preparando per il tuo esame di teoria e stai facendo i quiz e sicuramente sai che all'interno della corsia può viaggiare solo una fila di veicoli per volta, quindi la marcia per file parallele che vuol dire avere due veicoli che viaggiano parallelamente ci devono essere almeno due corsie per ogni senso di marcia. La prima immagine che ti voglio far vedere è questo, chiaramente la marcia per file parallele si può andare a creare solo in alcune circostanze, quindi non sempre, anche perché sai che durante la circolazione in caso di situazione normale, quindi come può essere tutti i giorni, quindi senza traffico intenso, bisogna occupare la corsia più libera a destra, quindi se siamo in una situazione senza traffico non si può verificare la marcia per file parallele, o meglio te lo voglio dire come ti viene detto all'interno dei quiz, la marcia per file parallele si può utilizzare, si può verificare se la strada ha almeno due corsie per senso di marcia e soprattutto in caso di intenso traffico, perché se tu ci fai un attimo caso, guarda l'immagine, vedi nella parte alta abbiamo traffico intenso, quindi ci sono tante macchine, una situazione caotica, ci sono due corsie per ogni senso di marcia, per senso di marcia stiamo guardando addirittura una strada a senso unico, questo qua è un segnale di indicazione, un senso unico frontale che ti dice sta iniziando una strada a senso unico, hai almeno due corsie, due corsie per senso di marcia, allora ti puoi posizionare anche a sinistra, però fai attenzione, guarda l'immagine, vedi che c'è traffico intenso, quindi una parte fondamentale della marcia per file parallele è la presenza di traffico intenso. Un'altra situazione è questa, ti ricordi se noi vogliamo andare a mettere diciamo sul podio, tutti gli elementi della strada troviamo al terzo podio, cioè nel gradino più basso troviamo la segnaletica verticale, cioè i segnali, al secondo posto andiamo a posizionare la segnaletica luminosa, cioè i semafori, al primo posto perché vincono sempre abbiamo gli agenti del traffico, quindi guarda questa immagine, abbiamo una corsia ad esempio questa che ti sto disegnando con la riga rossa che è occupata per una qualche situazione, ad esempio è successo un incidente, l'agente del traffico, eccolo qua, autorizza la circolazione per file parallele, cosa vuol dire? C'è una corsia occupata da un incidente, abbiamo almeno due corsie per senso di marcia, la prima e la seconda e l'agente del traffico ti dice ok vi potete posizionare su queste due corsie, quindi mi raccomando la prima parte che abbiamo visto traffico intenso e devi avere almeno due corsie, ti rifaccio l'immagine, due file di veicoli che viaggiano parallele, traffico intenso, oppure altra situazione come questa dell'immagine, marcia per file parallele concessa e autorizzata dall'agente del traffico, quindi lui ti dice disponetevi su due file perché questa corsia è occupata da un incidente. Altra situazione, in avvicinamento ad un incrocio, allora presta attenzione a quello che sto per dirti, quando ti stai per avvicinare ad un incrocio ti puoi posizionare su file parallele, quindi due file di veicoli che viaggiano una accanto all'altra solo ed esclusivamente se l'incrocio è regolato dall'agente del traffico, non so se riesci a vederlo, te l'ho cerchiato di rosso così magari non l'avevi neanche notato, comunque dentro a questo incrocio c'è un vigile, ok? Un agente del traffico. Allora se l'incrocio è regolato dall'agente del traffico oppure dal semaforo, guarda c'è il semaforo qua, allora è possibile marciare per file parallele. Ci stiamo avvicinando, ti ripeto, ad un incrocio regolato da semaforo oppure dall'agente del traffico. Guarda questa immagine, voglio vedere se mi state seguendo perché vedo che siete o siete estremamente attratti da quello che sto dicendo e vi state perdendo la chat, comunque avete a disposizione la chat, nella quale potete scrivere tutto quello che non vi torna, ok? Se avete qualche domanda o qualche dubbio scrivete che prima o poi vi rispondiamo. Ecco, voglio dirti questo, voglio metterti alla prova, ti faccio vedere un'immagine adesso, tanto per vedere se siete abbastanza caldi che mi potete rispondere. Allora, ti faccio vedere un'immagine, voglio sapere da te che sei seguendo questo video, questa immagine che ti sto facendo vedere adesso, eccola qua, voglio sapere se mi sai dire quante carreggiate ci sono in questa immagine. Allora, scrivimelo nella chat, se pensi che ci sia una sola carreggiata scrivimi una carreggiata, se pensi che ci siano due carreggiate scrivimi due carreggiate. Io nel frattempo ti spiego alcune cose che solo le autoscuole Guido e Vai ti possono offrire. Un'autoscuola Guido e Vai è in grado di darti tantissimi vantaggi, tra cui la possibilità di studiare su un libro che si chiama Tagbook. Questo libro è un libro particolare, ha la possibilità attraverso un QR code, ormai sappiamo tutti quei codici, hai presente? Prendi il telefono, inquadri il QR code, automaticamente pam, ti si aprono i quiz, solo dico l'argomento, quindi è una figata pazzesca, non devi stare lì a cercare, immagina che figata, tu prendi il cellulare, lo inquadri, inquadri il QR code e ti fa vedere solo i quiz di quell'argomento, è una figata pazzesca. Allora, vedo un pochino qua, ci sono dei commenti, inizio intanto a leggere qualcosa così rendiamo la lezione la rendiamo più dinamica. Allora, vedo che mi scrivono, do brea, mi scrive una carreggiata, poi chiaramente leggo e poi vi dico chi ha fatto giusto, chi ha fatto no, se no se vi tolgo subito, subito il dubbio, non va bene. Allora, Daniela Turcan, due carreggiate, Emanuele una carreggiata, Isabella due carreggiate, Moammut due carreggiate, allora, fate attenzione, ti spiego questo trucco, guarda l'immagine, al centro dell'immagine c'è una struttura rigida, c'è una struttura rigida ad esempio, fammi pensare, ad esempio un guardrail, c'è una barriera di questo genere, no, all'interno di questa immagine non c'è una struttura rigida, ci sono che cosa? Queste sono delle strisce dipinte sulla carreggiata, ok? Sono dipinte, c'è stato uno che con il pennello le ha dipinte, ma non c'è nessuna struttura, non c'è un muretto, non c'è un guardrail, quindi la strada in questo caso ha una sola carreggiata, è tutta unica, ok? E questa carreggiata qua è unica e ha due corsie per senso di marcia, abbiamo una corsia e una corsia che ci permettono di andare verso l'alto, le altre corsie te le coloro con un altro pennarello, quindi queste due corsie ti permettono di andare in un'altra direzione, quindi la definizione di questa è strada ad una carreggiata, quattro corsie, due corsie per ogni senso di marcia. Allora, ti ricordi all'inizio della spiegazione? La marcia per file parallele? Ok, ci devono essere però due corsie per senso di marcia, ci sono? Certo che ci sono, eccole qua, nella parte destra dell'immagine abbiamo due corsie per senso di marcia, traffico intenso? C'è anche il traffico intenso, quindi marcia per file parallele? Ok, si può fare. Altra situazione, guarda l'immagine, anche in questo caso carreggiata unica, ci sono almeno due corsie per senso di marcia, sì hai voglia, addirittura qua ce ne abbiamo tre, quindi tre corsie per senso di marcia, in questo caso abbiamo tre corsie che ci permettono di andare tutte nella stessa direzione, in caso di traffico intenso allora è possibile marciare per file parallele. Guarda quest'immagine, adesso non ti farai più fregare perché grazie a quello che ti ho spiegato, questo trucchetto, guardi l'immagine, guarda al centro, al centro della tua strada, vedi un guardrail, vedi un muretto, vedi una struttura rigida? No che non c'è, quindi è una sola carreggiata, una carreggiata, qua abbiamo tre corsie per ogni senso di marcia, te le vado a disegnare con il pennarello rosso perché credo che si veda meglio, eccole qua, tre corsie per il senso di marcia, tutte e tre le corsie mi permettono di andare verso l'alto immaginiamo, ok? Abbiamo traffico intenso quindi è possibile marciare per file parallele. Allora voglio accelere un pochino perché purtroppo il tempo a mia disposizione non è tanto, però voglio arrivare alla fine di questo argomento in modo tale che ti siano rimasti più concetti possibili. Allora guarda l'immagine, durante la marcia per file parallele, siamo nella parte bassa, è consentito cambiare corsia per effettuare delle svolte, guarda immagina di essere a bordo della macchina verde, questa qua che ti sto cerchiando di rosso, se tu sei a bordo della macchina verde e ti accorgi di voler andare a sinistra e sei in una situazione di marcia per file parallele perché c'è traffico intenso avrai sicuramente imparato che bisogna mettere l'indicatore di direzione cioè la freccia, ci si sposta sul lato sinistro e si effettua la svolta. Una cosa che sicuramente non si può fare ma parliamoci chiaro in strada si vede di tutto, ti dico la verità si vede qualsiasi cosa, una cosa che non si può fare è questa della slide, cioè se tu hai immagina di essere a bordo della macchina rossa, questa qua che vado a disegnarti col numero uno, tu sei qua dentro ok e decidi di andare a sinistra e allora non puoi stare nel lato destro perché se tu hai messo la freccia per andare a sinistra vuol dire che vuoi girare a sinistra, vuoi svoltare a sinistra, ti devi andare a posizionare sul lato sinistro della tua carreggiata ok, non puoi stare a destra se no cosa succede che vai a tagliare la strada alla macchina blu e in questo punto succede un bel incidente, tutte cose che noi non vogliamo non vogliamo verificare. Allora guarda questa immagine, l'abbiamo già vista, carreggiata unica, la domanda cattiva, la domanda cattiva che ti fanno è questa, la marcia per file parallele non è ammessa se la strada è a una sola carreggiata, la risposta è falso mi raccomando, la marcia per file parallele non è ammessa se la strada ha una corsia, non una carreggiata, guarda l'immagine, questa è una carreggiata ok e hai tre corsie per senso di marcia, figuriamoci se non è ammessa la marcia per file parallele quindi in questa situazione sì, un'unica carreggiata però tre corsie per senso di marcia quindi devi fare attenzione alla parola, una sola corsia, quello ti deve far accendere la lampadina ecco una cosa che si verifica sicuramente, dimmi la verità, se si verifica solo nella mia città o se si verifica anche nella tua città, immagina queste situazioni, traffico intenso, marcia per file parallele, che ne so, in pieno centro alle 8 di mattina, alle 8 mentre tutti stanno andando a lavoro ecco vedi magari quelli con le moto che passano tra una macchina e l'altra ok? Questa cosa si verifica 100 volte su 100 nella vita reale ma per quanto riguarda il quiz, per quanto riguarda l'esame di diaria non si può fare, quindi fai attenzione, un motociclo deve stare in coda ok? Non può passare tra una fila di veicoli e l'altra durante la marcia per file parallele. Altra cosa che non si può verificare che magari non lo sapevi, se sei a bordo di un ciclomotore in caso di traffico intenso di marcia per file parallele, se sei a bordo del ciclomotore, quindi sei a bordo di questo motorino, passami il termine non puoi occupare la corsia, non puoi occupare la corsia di sinistra, quindi te ne devi stare nella corsia di destra, anche questa situazione dimmi la verità dai, parliamoci faccia a faccia dai, non vogliamo raccontarcela, quante volte ti sarà capitato magari con il motorino oppure di vedere qualche tuo amico, oppure in generale sei lì in coda e vedi un motorino che ti supera a sinistra, dai diciamo la verità, si verifica sempre, però non si può fare, quindi un ciclomotore non può occupare la corsia di sinistra se c'è traffico intenso durante la marcia per file parallele, mi raccomando ricordati di questo concetto. Altra cosa che ti voglio dire perché mi sembra che ci sia qualche domanda su questo argomento, se tu sei in coda in autostrada, io di solito ai miei ragazzi faccio questo esempio, sei in coda in autostrada indipendentemente in quale corsia ti metti a destra o a sinistra, è indifferente, tu ti posizioni in una corsia traffico intenso, ok, ti sarà capitato sicuramente di essere fermo nella tua corsia e vedere passare nell'altra corsia, quella di destra o quella di sinistra, veicoli che invece si stanno muovendo. Come trovi questo concetto all'interno delle tue domande? Lo trovi in questa maniera, se tu sei in coda per la marcia per file parallele in caso di intenso traffico nella corsia di sinistra può essere che la corsia di destra viaggia ad una velocità superiore alla tua, è vero, ok? Quindi può capitare che sei a sinistra, immagina in autostrada, a sinistra sei nella tua corsia e vedi a destra le macchine che ti superano. Possono farlo? Sì, stiamo marciando per file parallele, quindi è possibile che a destra viaggiano ad una velocità più alta della tua perché magari loro si possono muovere perché la coda è andata avanti, tu invece no perché sei fermo che stai aspettando ancora di poterti muovere. Allora io questo argomento qua, la marcia per file parallele, è un argomento, hai visto abbastanza facile, ti devi ricordare giusto due o tre concetti, non c'è tanto da ricordarsi, però devi averli chiari, quelli è importante, quindi mi raccomando se ti capitano dei quiz sulla marcia per file parallele ricordati di questa mia diretta, ti ricordo io sono Daniel, ho trasmesso questa diretta, questa live da Albenga, siamo in Liguria in provincia di Savona e voglio lasciarti come ti ho anticipato all'inizio del video, non ti posso lasciare con la mare in bocca, ti voglio dire alcuni vantaggi che solo iscrivendoti in un'autoscuola Guida e Vai come la mia, l'autoscuola Olimpia, puoi avere. L'applicazione Guida e Vai oltre a darti tutti i quiz, i 7166 quiz che potrebbero capitarti il giorno del tuo esame di teoria, cioè no aspetta, il giorno del tuo esame di teoria non ti capitano tutti i 7166, te ne capitano solo 40, però ne straggono 40 tra questi 7166, non vorrei che tu andassi a casa a dire no ma quello di Facebook mi ha detto che ci sono 7000 quiz, no il giorno del tuo esame ci sono 40, solamente 40 domande, però possono essere estratte da queste 7166. Allora l'applicazione Guida e Vai oltre ad avere appunto tutti i quiz ufficiali ti dà la possibilità anche una volta che sei collegato con la tua autoscuola più vicina, quindi attiva il GPS, attiva le notifiche, ti dà la possibilità di poterti guardare delle video lezioni che non sostituiscono le lezioni in aula, no assolutamente, però ti danno un supporto, immagina di non poter assistere a delle lezioni perché stai preparando un esame all'università oppure ti stai preparando per la maturità, oppure semplicemente hai la febbre quindi non puoi venire a lezione, allora ti guardi questi video e ti danno un supporto, io e i miei ragazzi sto preparando tutti i video, li sto mettendo piano piano nell'applicazione in modo tale che si possano confrontare con me sempre di più. Un'altra cosa che ti danno le autoscuole Guida e Vai hanno la possibilità di avere una chat diretta col tuo insegnante, immagina che figata tu sei, arrivi a casa stanco, magari al fine della giornata di lavoro ti metti a fare dei quiz, rispondi a tutto, arrivi in fondo e non hai capito una domanda, qualcosa non ti torna eppure quell'argomento l'hai studiato bene, allora cosa fai? Apri la chat con un pulsante, stiamo parlando di un pulsante, ma ti rendi conto che figata, tu schiacci questo pulsante, arriva un messaggio al tuo insegnante, in questo caso io, mi arriva un messaggio da parte di, vediamo chi mi può scrivere, da parte di Ilenia, mi dice Daniel non ho capito questo argomento e io gli rispondo un subito e lei riceve la e lei riceve la mia risposta in tempo reale, cioè è una figata pazzesca. Quindi scarica l'applicazione Guidevai, quiz patente ufficiale se non è ancora fatto, è impossibile non farlo dopo tutte queste spiegazioni, continuo a guardare le dirette che ogni martedì sera alle ore 19, ogni venerdì sera sempre alle ore 19, io e i miei colleghi ti offriamo questa possibilità di assistere gratuitamente ad una spiegazione online, solo le nostre autoscuole Guidevai ti offrono, quindi su Facebook, su questa pagina è una figata pazzesca. Ogni volta, ogni volta per me è un'emozione poter pensare che uno si mette davanti al computer, al cellulare, allo smartphone e assista a una lezione di teoria online, in diretta a Facebook, ma le altre autoscuole, ma le altre autoscuole se lo sognano. Quindi scarica l'applicazione, collegati, fai tutto nella maniera corretta. Io saluto ancora qualcuno che è rimasto fino alla fine di questo video, ciao Valeria, ciao Gabriela, ciao Lisa, ciao Samuel, grazie per aver assistito a questa lezione, spero di averti eliminato più dubbi possibili su questo argomento che era la marcia per file parlaire, continua a studiare, continua a fare quiz e vedrai che la tua patente sarà sempre più vicina e sarà sempre più divertente con le autoscuole qui devrai raggiungere questo percorso. Io ti ringrazio di aver assistito alla mia lezione, di aver condiviso con me questi 25-30 minuti, spero di esserti stato d'aiuto, ti saluto, ti abbraccio forte e ci vediamo nelle prossime lezioni. Ciao! E' il primo della lista nei tuoi sogni, vuol dire indipendenza alla tua età. La smetti da una vita ed oggi lo puoi realizzare, la tua patente a tutti mostrerai. La macchina è l'amica dei tuoi giorni, è il primo passo per la libertà, e ti accompagnerà crescendo nel viaggio della vita, riderai, piangerai con lei. Guida, vai per la tua strada, occhi aperti e so...